Dunque è una versione tratta dal De Finibus di Cicerone che è un'altra opera evidentemente molto molto di stampo filosofico, c'è un gran minestrone in quest'opera perché vengono presi elementi da Platone, da Aristotele, prima quest'opera parte con l'epicureismo, poi Cicerone rifiuta l'epicureismo anche perché c'è una ragione fondamentale, l'epicureismo non voleva che la persona partecipasse alla vita dello Stato come se lo Stato, effettivamente non avevano torto gli epicurei, non permettesse poi la serenità, la tranquillità, quella atarassia cui gli epicurei hanno sempre puntato. Mentre per Cicerone evidentemente vivere nello Stato è fondamentale come cittadino e quindi poi si avvicina ad altre correnti, ripeto ci sono elementi di Platone, di Aristotele, degli stoici, scettici, peripatetici eccetera. E qui dimostra Cicerone di essere un eclettico, qui a proposito della temperanza e saggezza a fonte di piacere, spiega come sia importante temperanza e saggezza poterle vivere quotidianamente nella vita, ma non solo per se stesse, ma perché ci danno gioia e ci mettono in una contenzione di pace e di tranquillità. Allora Allora Quozzi, vitam omnem perturvare videmus, errore et in sciencia, sapiensiamque esse solam, Que nos a libidinum impetu, et a formidinum terrore vindicet, et ipsius fortunae modice ferre docea tiniuvias, et omnis monstres de vie, Que ad quietene da tranquillità temferant, quid est cura dubitemus dicere, et sapiensiam propter voluptates espetendam, et insipiensiam propter molestias esse fuggendam. Dunque Non è semplice, ma non è poi così difficile, anche perché la si può tradurre così, parola dopo parola. Quozzi, videmus Questo quad, proprio perché è attaccato al si, diamogli il valore di perciò. Quad, sappiamo che può anche essere una congiunzione conclusiva. Andate a vedere sul mio manuale tutti i significati del pronome relativo e in modo particolare del quad. Se perciò. Però è evidentemente una condizionale, non è una principale. Vedete che incuneata dentro a questa condizionale c'è un'infinitiva. E è frequente questa cosa, no? Che l'infinitiva sia incuneata dentro alla proposizione reggente. Poiché se vediamo, che cosa vediamo? Vita momnem, che tutta la vita è turbata dall'errore e dalla ignoranza. Abbiamo un et, quindi vuol dire che c'è un'infinitiva e qui c'è un'altra infinitiva. E che c'è solo la sapienza. Es solam sapientiam. Che la sapienza è la sola, si può anche mettere. E che la sapienza è la sola. Quindi anche un predicato nominale, sapienza soggetto sola in parte nominale. E che la sapienza è la sola. E poi inizia una relativa. Anzi, tre relative. Perché vedete, legate dall'et e legate dall'et. E c'è sempre questo qui che legge tutto. Quindi, e che la sapienza è la sola. Che Vindicet Nos Liberi noi dall'impeto delle passioni E Dal timore dei terrori. E Doceat Insegni Ferre Ferro ferre studiato un ferre vuol dire tramandare, fare, sopportare. Sopportare quindi Che cosa? Le offese Ipsius fortuna Della stessa Sfortuna Qui con fortuna Intentiamo Dello stesso destino Con equilibrio Questo è un avverbio Quindi E Che ci insegna Dunque A sopportare con equilibrio I Nurghias Le offese Dello stesso destino Io ho detto Ferre Fare sbagliato Scusatemi Ferre vuol dire tramandare Sopportare E portare Non fare Et Omnes Vias Monstret E Che ci mostra Tutte le vie Che Allora Innanzitutto questo Omnis Attenzione l'Omnis Con valore di S Tutte le vie Omnes Vies Poi Notate tutti questi Congiuntivi Vindice Doceat Monstret Perché Perché c'è trazione modale Retta Da Delle Infinitive Allora E che ci mostra Tutte le vie Che Ferrant Portano A che cosa Alla quiete E alla serenità Avete visto A questo punto Che non siamo ancora Arrivati alla principale Perché abbiamo avuto Delle proposizioni Rete da sì Rete Da que Rete di nuovo Da que Ci sono delle infinitive Ecco la prima Infatti Noi abbiamo Un punto interrogativo E qui abbiamo Un'interrogativa Notate Una interrogativa Diretta Che regge Una interrogativa Indiretta Letteralmente Che cosa È Perché Dobbiamo Dubitare Perché Dubitiamo Di dire Che cosa È Perché Dobbiamo E dagliela Non dobbiamo Che cosa È Perché Dubitiamo Di dire Noi potremmo Tradurre più liberamente Per quale motivo Dovremmo Dubitare Di dire Notate infatti Che questo Essendo un interrogativo Indiretta È a congiuntivo Quindi Per quale motivo Dovremmo Dubitare Di dire Che cosa E abbiamo Di nuovo Un'infinitiva Anzi Due infinitive Perché c'è Expetendam S Fugendam S Qui legge L'essere sottinteso E abbiamo Et Et E Che la sapienza Propter Propter Voluctates Per i suoi stessi piaceri Expetendam Deve essere cercata Expetendam Es È una Perifrastica passiva Inserita dentro L'infinitiva E che La grettezza Propter Molestias Per gli stessi Stofferenze Che ci può dare Fugendam Messe Deve essere Fuggita Mi raccomando Per i frastica Passiva Il verbo Dovere I adenque Razione Ne temperanze Anquide Propter S Petendam Messe Dicemus Sed Qui a pace Animis Aperat E teos Quasi concordia Quadam Placet Ac Leniat Vediamo Siamo di nuovo Un'infinitiva Vedete Che l'infinitiva Di nuovo Si incunia Dentro La proposizione Che la regge Che è una proposizione Principale Perché E adenque E adenque L'azione Dicemus Non è introdotta Da nessuna particella Subordinante Per la stessa ragione Diremo Attenzione Non Diciamo Perché dico È della terza E quindi L'uscita E messe E messe Temus Setisent E In questo caso Am Am E messe Temus Setisent È futuro Non è presente Per la stessa ragione Diremo Che cosa Ricordatevi Nequidem Che vuol dire Neppure Che Neppure la temperanza Espetenda Messe Deve essere Cercata Propter Se Per se stessa A causa Di se Cioè Il discorso È sempre questo Cicerone Continua a insistere Non è soltanto Da ricercare Perché è virtù Ma perché Ci fa vivere meglio Ma Poiché E qui abbiamo Questo poiché Che regge Aferat Placet Leniat Tutte tre Al congiuntivo Attenzione Che Placet Non è da Placio Piacere Non è da Placco Placca Splaccavi Placcato Placcare Quindi è un congiuntivo Notate che l'uscita Et Della prima congiugazione Fa congiuntivo Della terza Coniugazione Fa futuro Fossimo Della seconda Farebbe presente Poiché Porta Pace Agli animi E Li Placa Quasi Con una certa Concorso Concordia E Li Rasserena Perché tutti questi congiuntivi? Perché siamo di nuovo nella trazione modale Vorrei Fermarmi però Ad un'osservazione Perché se qualcuno È da tempo che mi ha seguito Dovrebbe dirmi Ma Scusa Ci sono C'è una congiunzione Coordinante Quindi se c'è una congiunzione Coordinante Legata alla proposizione Principale Qui ci dovrebbe essere Una coordinata La principale Perché c'è una causale? Perché la proposizione È sottointesa Proviamo a vedere Lasciamo perdere Questa Questa rossa Dunque Per la stessa ragione Diremo Ta 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 Ma Per la stessa ragione Diremo Che deve essere ricercata Cioè Sostanzialmente Dopo questo sed C'è di nuovo Tutta la frase Sottintesa Proviamo di nuovo A rifarla Allora Per la stessa ragione Diremo Che la temperanza Che neppure la temperanza Deve essere ricercata Per se stessa Ma Per la stessa ragione Diremo Che deve essere ricercata Poiché Porta Pace Agli animi Quindi questo sed È qui E potrebbe evidentemente Creare dei problemi Perché Dice C'è un sed È una congiunzione Coordinante Io devo ritrovare Una principale Invece Mi trovo Una serie Di causali Perché c'è di nuovo E adem Razione Dicevo Sottintesa Temperanzia Estenim Quien rebus Aus petengis Aus fugendis Ut Razione Sequam Ur mole Dunque Temperanzia Estenim È una principale Non c'è nessuna Particella Subordinante Dunque Notate C'è una relativa Qui c'è In rebus Aus petengis Ad fugendis È di nuovo Un gerundivo Dove Il gerundio Traduce Con un infinito Rebus È il complemento Oggetto E lo vediamo dopo Ma potremmo anche Tradurlo subito Perché sono blocchi L'ho già detto tante volte Che sono facili Si possono tradurre Separatamente In Nel cercare O nel fuggire Le cose In rebus Aus petengis Ad fugendis Quindi Poi c'è un ut Che mi mette Razione Razione Sequamur No? Un'azione Sequamur È a parte E quindi questo monet Fa parte dell'infinitiva Que monet Se no non avremo Il verbo Vediamo di tradurre Prima letteralmente Infatti La temperanza È Che Ammonisce Nel cercare Nel cercare O nel fuggire Le cose Ut Sequamur Razione Per seguire La ragione Evidentemente Non sta molto bene Così C'è un Is Sottinteso La temperanza Infatti È tale Che Ciamunisce Uno Qualcuno Potrebbe dire Ma Non abbiamo detto Che lì Sia Sottinteso Nella consecutiva E quando c'è La consecutiva Itaut Ma questa È una consecutiva È una consecutiva Relativa È una consecutiva Ci sono Le relative Improprie Che possono essere Relative Improprie Consecutive Relative Improprie Finali Relative Improprie Causali Relative Improprie Temporali Eccetera Questa è una Relativa Impropria Consecutiva Quindi È più che legittimo Che ci sia Unita Unisse Sottinteso La temperanza Infatti È tale Che Ci ammonisce In Rebun Nel cercare Non fuggire Le cose Perché Seguiamo La ragione Ci spinge Potremmo ancora Ci spinge A seguire La ragione Mettiamola In una forma Implicita No Ci spinge Monet Ut Sequamur A Seguire La ragione Nel Ricercare Nel Fuggire Le cose Di questo Mondo Nec Enim Satis est Giudicare Qui facendo Non facendo Sit Set Stare Ezziamo Porti Di Neop Si Giudicare Qui è una principale Non ci sono particelle subordinanti Nec Enim Satis est Ne Infatti È sufficiente Giudicare Giudicare È un'infinitiva questa È una soggettiva Qui facendum Non facendum Vesit È un interrogativo Indiretta Che cosa Si deve O non si deve fare Facendum Facendum Col ve Che vuol dire O Ma Eccolo qui Di nuovo Una congiunzione Coordinante Che mi dice Qui c'è un'altra Coordinata La principale Sed O port Ma È necessario Vedete la simmetria Di Cicerone Satis est Giudicare Sed O port Stare Ma È necessario Anche Perseverare Ineo In quello Che Sit Giudicatum È stato definito È stato giudicato È stato scelto Di nuovo Notate Il sit Congiuntivo Al posto Dell'indicativo Perché abbiamo Attrazione Modale Perseverare Di nuovo Perseverare Perseverare Perseverare